Buongiorno, sono Alessandro Radicchi, sono il direttore dell'Osservatorio Nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni italiane e in questi 30 minuti circa di presentazione vi andrò a raccontare e a introdurre al rapporto annuale 2016 delle attività realizzate dagli help center nell'ultimo anno. Confidò allora di aver trovato un posto che le sembrava una casa, il vecchio mercato all'inglese della frutta vicino al mare, un mostro di cemento abbandonato che racchiudeva al proprio interno un micromondo dell'underground abitato da moltissime persone. Ecco, in questa mia presentazione farò riferimento ad alcuni estratti di alcuni contributi ricevuti da partner della rete ma anche da altri amici esperti o personaggi istituzionali che poi troverete all'interno del rapporto stesso che vi invito a scaricare dal sito www.onds.it. Questa era un flash, un'immagine, una storia di Massimo Eppoliti dell'associazione Underworld che gestisce l'help center di Pescara che ci porta proprio dentro il tema del nostro lavoro, le persone ma anche i luoghi e quello che accade dentro a questi luoghi, questo micromondo dell'underground dove ci sono affetti, ci sono relazioni ma ci sono anche problemi ma ci sono anche opportunità. Prima di entrare però nel merito degli help center andiamo a vedere un po' qual è la storia della nostra rete. La nostra rete nasce in realtà da un progetto del 1999 che aveva a che fare per lo più con i passeggeri. Nasce per il giubileo del 2000 e aveva il compito con un altissimo numero di volontari del servizio civile, obiettori di coscienza, circa 200, di accogliere e orientare i pellegrini che arrivavano nella appena rinnovata e ristrutturata stazione ai Roma Termini ai servizi del territorio. Era un progetto realizzato con l'Ufficio Nazionale Servizio Civile, con il Ministero e ovviamente con Ferrovia dello Stato e grandi stazioni. Proprio durante quel progetto ci accorgemmo che la stazione era un luogo che era frequentato non solo da passeggeri ma anche da altre persone che non necessariamente andavano a prendere il treno e ce ne accorgemmo in un momento particolare alla fine del giubileo quando nelle ferrovie dello Stato nasceva per la prima volta il settore politiche sociali. Una data molto importante perché questo ha cambiato l'approccio proprio delle ferrovie alle problematiche sociali di stazioni dando vita ad un percorso che è quello dove poi ci ritroviamo oggi con tutte le nostre attività. La prima azione realizzata in sinergia con il settore politiche sociali fu quella di realizzare un punto di accoglienza ed orientamento per le persone richiedenti asilo e rifugiate che transitavano alla stazione ai Roma Termini. Questo progetto venne non casualmente realizzato insieme a Lanci e all'interno di quegli stessi uffici che noi chiedemmo a Ferrovie di lasciarci sul binario 1 della stazione ai Roma Termini per ascoltare queste persone e orientarle poi all'interno dei centri di accoglienza del piano nazionale asilo, quelli che poi oggi sono diventati centri dello SPRAR. Quel progetto ebbe un ottimo risultato e ci rendemmo ancora di più conto di quanto fosse importante creare un punto in cui le persone più bisognose potessero essere ascoltate e orientate all'interno di quella che ormai era non solo una stazione ferroviaria dove partivano i premi ma una vera e propria città all'interno della città, la rinnovata stazione di Roma Termini. Ecco così che nel 2002 nasce sul binario 1 della stazione ai Roma Termini in collaborazione con il partenariato con il comune di Roma il progetto Help Center di Roma Termini. Proprio da questo progetto uno sportello che accoglieva e orientava persone bisognose ai servizi del territorio nasce l'idea di osservare quello che accadeva anche in altre stazioni italiane. Quali esperienze simili a quella dell'Help Center di Roma Termini si stavano già svolgendo e ci accorgemmo che a Milano, a Firenze, a Bologna c'erano delle organizzazioni o addirittura a Milano, il comune di Milano che in realtà facevano già questo tipo di attività. A Milano c'era un centro aiuto, a Bologna c'era un posto di ascolto gestito da un'associazione a Firenze, c'era l'ACIS in protezione della giovane che da decenni gestiva uno sportello di ascolto per le donne. Quindi decidemmo di metterci insieme, l'unione fa la forza e presentammo così un progetto sperimentale a Ferrovie dello Stato per la nascita di un osservatorio nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni. Il progetto venne accolto positivamente, tanto che portò poi nel 2005 ad un accordo quadro proprio con l'Anci, con cui avevamo iniziato questa sperimentazione a Roma Termini, un accordo quadro sulle politiche sociali e alla formalizzazione della nascita dell'ONDS. Questo portò poi a continuare ad avanzare la nostra ricerca anche in altre stazioni, quindi nella stazione di, ci accorgemmo che a Genova Cornigliano c'era una mensa gestita dall'associazione Sole Luna, a Napoli c'era il centro La Tenda che aveva un piccolo sportello anche lì sul binario 1, a Catania la Caritas gestiva anche lì un sportello che dava informazioni immense dei piccoli pasti, un'assistenza di massima e anche a Foggia c'erano i fratelli della stazione. Così la rete si iniziò ad allargare e l'osservatorio incominciò davvero a prendere concretezza. Che cosa successe e perché anche vi racconto tutto questo? Perché in realtà il lavoro che viene fatto dagli help center della rete ONDS non è solamente un lavoro di assistenza e orientamento dei beneficiari finali, ma è anche, che ovviamente è l'obiettivo primario per cui esistono e sono nati ed esistono gli help center, ma è anche un percorso che ha visto tantissimi partner collaborare per la ridefinizione di quello che è un sistema di welfare del nostro paese che necessariamente deve oggi vedere coinvolti più attori, non solo le istituzioni, ma anche privati, ma anche il terzo settore, come poi vedremo che è proprio il modello della nostra rete ONDS. Che cosa succede? In Europa le ferrovie ovviamente hanno rapporti con altri gestori ferroviari internazionali e venne visto di buon occhio questa esperienza dell'ONDS e così nasce nel 2008 una rete europea di gestori ferroviari che si interrogano sulle problematiche sociali presenti nelle stazioni ferroviarie e provano a confrontarsi per trovare delle modalità per risolvere queste problematiche. Nasce nel 2008 così la rete GAR European et Solidarité, una rete che appunto aggrega, oggi sono 16 i partner di questa rete e che si incontrano, partecipano a progetti e realizzano delle prassi che poi possono essere condivise tra di loro. Nel 2009 incomincia a entrare anche dei privati nello sviluppo delle azioni nella rete, per esempio viene fatto tra i vari accordi, uno molto importante è quello con l'associazione nel cuore che dedica 3 milioni di euro su tutto il territorio nazionale per creare o ristrutturare help center. Parallelamente nello stesso tempo poco dopo viene fatto un accordo anche con Ikea che si impegna invece a fornire il mobilio, quindi l'arredamento ai centri della rete e così la rete continua ad espandersi e così aderiscono alla rete anche l'help center di Chivasso, di Pescara, viene costruito un grande centro a Pescara, uno dei più attivi della nostra rete, entra anche l'associazione Caps di Bari, quindi il comune di Torino con delle associazioni locali e anche a Messina dopo un lungo periodo di analisi viene realizzato anche lì un help center con un centro diurno annesso. Tutta questa attività porta alla vittoria di due Sodalitas Social Innovation Award, uno proprio per il progetto della rete ONS per Ferrovie dello Stato e uno invece particolare per la cooperativa Europe Consulting che era poi incaricata, idea tutt'oggi, di coordinare questa rete di centri per un'azione particolare sviluppata dalla rete, quella della creazione di un sistema informatico che permettesse agli operatori, ai servizi della rete di registrare gli interventi effettuati sulle persone, di monitorare il loro percorso e quindi sostanzialmente di aiutarli meglio. Questo sistema si chiama Anthology e nel tempo poi si è evoluto ed è addirittura oggi divenuto il sistema utilizzato dal Dipartimento Politico e Sociale di Roma Capitale proprio per connettere i propri servizi sulle marginalità. Solo su Roma parliamo di circa 150.000 schede di persone marginate diverse registrate ed un collegamento interattivo tra centinaia di servizi del territorio, solo sulla città di Roma e addirittura tra due uffici, quello che si occupa delle persone migranti e quello che si occupa delle persone senza dimora. Ma non solo privati, nel 2013 ecco lì che viene realizzato il primo accordo quadro con una regione per lo sviluppo di attività sociali nei comuni del territorio e così c'è un accordo quadro tuttora in atto perché è stato rinnovato proprio recentemente tra Ferrovi dello Stato e la Regione Toscana per l'apertura di centri o l'attivazione di iniziative di solidarietà nelle città di Viareggio, Prato, Pistoia e Livorno. In realtà poi adesso già sono aumentate le città, sono state inserite nuove città dove si andranno a realizzare nella Regione Toscana iniziative di solidarietà. Ed ecco che nel 2014 l'Osservatorio Nazionale sul disagio e la solidarietà viene invitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al tavolo per la programmazione socio-economica 2014-2020. Abbiamo voluto sottolineare questo momento perché assieme all'Ons viene invitata anche Ferrovie ed è l'unica società privata che partecipa a un tavolo di programmazione nazionale e questo è un elemento secondo noi molto importante nella storia che vi stiamo raccontando. Nel 2014-2015 aprono nuovi centri, quindi Melfi e Reggio Calabria, quindi continua l'espansione della rete, nel 2016 Trieste, nel 2017, quindi all'inizio di quest'anno apre il centro di Brescia e poi ci sono altri centri in lavorazione oltre a quelli della Regione Toscana ci sono quelli altri, per esempio Palermo, Terni o anche Venezia che sono attualmente in lavorazione. Bene, dopo questa storia che vi ringrazio di aver avuto la pazienza di ascoltare, entriamo nel merito proprio del nostro rapporto e il nostro rapporto sarà focalizzato su 14 dei 17 help center che vedete rappresentati in questa mappa, perché 14? Perché Brescia ha aperto nel 2017, quindi i dati raccolti non sono riferiti all'anno di interesse di questo rapporto, mentre Melfi e Foggia nel 2016 hanno avuto un arresto, nel senso dei problemi di finanziamento dovuto proprio alla mancanza di risorse che permettono poi a questi centri di andare avanti nella loro conformazione che andremo poi ad analizzare adesso in dettaglio. Ma vediamo che cosa dice Antonio De Caro, presidente dell'Anci, nel suo contributo. Attraverso l'attività degli help center la stazione da luogo di passaggio fugace diviene sipario urbano, un contesto nel quale offrire supporto, attivare percorsi individuali e costruire attraverso una rete di servizi i presupposti per una condizione di vita migliore. Questa frase ci porta proprio a quella che è poi la filosofia dell'ONDS, ossia quella che noi chiamiamo la piramide che sostiene tutti i nostri progetti alla base della quale ci sono tre elementi. Il privato, in questo caso l'impresa privata, ferrovie dello Stato che mette a disposizione dei locali, quindi incomodato d'uso gratuito degli spazi dove possono essere erogati dei servizi in favore di persone bisognose, questi servizi vengono erogati da chi ha competenza nel territorio, quindi il terzo settore, che possono essere cooperative sociali, associazioni e vengono erogati grazie al sostegno, al finanziamento delle autorità locali, quindi in genere i comuni ma anche le regioni. Ed ecco così che nasce la struttura proprio dell'help center che poi non si esaurisce ovviamente solo in questi tre pilastri fondamentali che la sostengono ma crea poi delle sinergie nel territorio con gli stakeholder di stazione, con i cittadini, con le associazioni di volontariato, con le strutture sanitarie, con le reti nazionali o internazionali, anche con le università ma anche come abbiamo visto con fondazioni privati che contribuiscono, hanno contribuito allo sviluppo delle azioni di rete e ovviamente con la comunità di stazione e gli utenti. Questa è un po' l'idea del passaggio da un welfare basato sull'attività dello Stato dell'istituzione a un welfare che invece si realizza con il contributo di tutti gli attori della società. Questo ci viene ricordato sempre nel nostro rapporto 2016 dal contributo della Presidente delle Ferrovie dello Stato Gioia Ghezzi e dall'amministratore delegato Renato Mazzoncini. Vogliamo contribuire a creare valore condiviso strettamente collegato al benessere sociale dell'intera collettività e fare la nostra parte nell'evoluzione del welfare state in welfare society ed è quello che abbiamo cercato di fare in ormai oltre 15 anni di lavoro. Entriamo nei numeri del rapporto, come vi dicevo dei 17 help center della rete, 14 sono quegli attivi nel 2016, questi 14 centri hanno operato in 2800 metri quadri di spazi ferroviari dedicati da Ferrovie dello Stato, quindi incomodato d'uso gratuito, quindi senza affitto, agli organismi del terzo settore o ai comuni. 2800 metri quadri a cui poi si dovrebbe raggiungere, per aprire una parentesi sull'investimento delle Ferrovie dello Stato, anche tantissimi locali che sono poi le impresenziate, stazioni impresenziate che sono dedicate ad altre attività sociali per arrivare a centinaia di migliaia di metri quadri dedicati da Ferrovie per attività sociali nel territorio. Ma rimaniamo sui nostri help center, 2800 metri quadri, dove hanno operato 46 operatori sociali ogni giorno, vuol dire che in ogni momento, ogni istante in cui è stato erogato servizio nella rete degli help center, 46 operatori sociali, quindi professionisti, stipendiati, contrattualizzati, hanno operato in favore di queste persone. Si sono affiancati, quindi 46 ogni ora parliamo di centinaia a centinaia di operatori. Si sono affiancati durante l'anno un totale di circa 850 volontari che hanno coadiuvato le azioni di questi operatori professionisti, perché è importante sottolineare il fatto che per andare incontro alle esigenze di questa popolazione è necessario avere delle alte professionalità. Non si può improvvisare l'aiuto su persone come migranti, persone con problematiche psichiatriche, persone con problemi di dipendenza dall'alcol o dalla droga, rischieremmo diversamente invece che fargli del bene, invece di aiutarli potremmo fargli del mare o dargli delle indicazioni sbagliate. Quindi per noi è importante mettere al centro l'attività professionale di operatori professionisti che devono essere sostenuti economicamente dagli attori del territorio, quindi dalle istituzioni. 31.700 ore totali di apertura dei centri per oltre 4.500 giorni totali. Che cosa è stato realizzato in questo tempo? 483.416 interventi, interventi in favore di persone bisognose. Interventi che noi abbiamo suddiviso in interventi di bassa soglia e interventi di orientamento sociale. La bassa soglia cos'è? È il soddisfacimento di un bene primario che può essere fare una doccia o avere un pasto caldo, una coperta, un intervento in favore di persone non necessariamente identificate, identificabili, quindi anonime anche, che si sono rivolte ai nostri centri o sono state intercettate dagli operatori dei nostri centri interventi per soddisfare un bisogno immediato. A questi però si affiancano invece 74.411 interventi di orientamento sociale e presa in carico effettuati su 22.687 persone registrate, vuol dire persone con un nome e un cognome che hanno scelto di farsi registrare all'interno di nostri sistemi e di quindi iniziare un percorso di presa in carico. Questo numero è molto importante perché ecco qui una prima finestra che apriamo. Se andiamo a vedere quante sono le persone che, stimate dall'Istat, le persone senza dimora presenti in Italia sulla base di un'indagine effettuata assieme a FIOPS e Caritas italiana e il Ministero del Lavoro nel 2014, vediamo che sono 50.000 circa le persone senza dimora contate in Italia. Ovviamente come anche afferma l'Istat, quell'indagine è stata fatta in un determinato periodo, in 158 comuni italiani campione e sulle persone che in quel periodo hanno usufruito di alcuni servizi di accoglienza. Se ci basiamo però su questo che è l'unico numero nazionale istituzionale ufficiale messo a disposizione dall'Istat, vediamo che la metà di queste persone passerebbero per i centri delle stazioni ferroviarie. Questa è testimonianza del fatto di come le nostre stazioni siano effettivamente dei luoghi di alto transito, anche di persone che vanno alla ricerca di un aiuto. Andiamo a vedere però chi sono queste persone. Queste persone, di queste 22.687 persone, abbiamo divise in vecchi utenti e nuovi utenti. I nuovi utenti sono coloro che per la prima volta si sono presentati ai nostri centri di accoglienza proprio nell'anno 2016, ossia vuol dire che prima non erano conosciuti e per la prima volta hanno chiesto aiuto, si sono registrati e hanno lasciato il nome. Guardate che questo numero è veramente alto, è quasi il 50% delle persone che sono state accolte e prese in carico, a significare che c'è un fortissimo ricambio degli utenti dei nostri centri, è un fortissimo ricambio delle persone che hanno bisogno e si presentano nel nostro paese. Da cosa dipende questo ricambio? Certamente dipende anche dai fenomeni migratori. Vediamo infatti che oltre il 70% degli utenti dei nostri centri sono utenti migranti, utenti che arrivano nel nostro paese, chiedono aiuto, chiedono asilo politico oppure cercano poi di transitare, di andare, di proseguire il loro percorso migratorio in altri paesi. E anche qui vediamo che cosa dice Feanza, quindi l'organismo europeo delle organizzazioni che si occupano di persone senza dimora. Mauro Striano, il Migration Policy Officer, afferma che in Italia nel 2016 meno del 40% dei migranti è stato riconosciuto come rifugiato o ha ottenuto protezione sussidiaria. Questo comporta che molti dei nuovi arrivati debbano affrontare l'esito negativo delle loro domande di asilo, ossia vivere nell'irregolarità, senza accesso né al mercato del lavoro né alla protezione sociale. E quindi cadono nell'homelessness, nello stato di senza dimora. Quindi coloro che arrivano in Italia, che dovrebbero per le convenzioni internazionali essere accolti e indirizzati ad un percorso di rinclusione sociale, molti di questi in realtà arrivano, non trovano accoglienza e diventano sostanzialmente senza dimora. Senza dimora vanno nelle stazioni e chiedono aiuto. Ma vediamo anche un altro contributo presente nel nostro rapporto, quello del Presidente dell'Inps Tito Boeri, che su questa affermazione dice sostanzialmente che rafforza questa affermazione di Striano dicendo che l'ingresso in Italia di immigrati regolari sulla base del decreto flussi stabilito da Bossefini si è ridotto drasticamente negli ultimi anni lasciando spazio a immigrati irregolari e richiedenti asilo, il cui status legale non consente un loro immediato assorbimento nel mercato del lavoro. Questo è molto importante perché il Presidente dell'Inps si interessa dell'accoglienza dei migranti, perché questo incide notevolmente sul nostro mercato del lavoro. Vediamo infatti che continua Boeri che gli immigrati regolari, quindi regolarmente iscritti e che lavorano, versano ogni anno 8 miliardi di contributi sociali. Ne ricevono tre in termini di pensioni e prestazioni anche sociali, quindi con un saldo positivo di 5 miliardi. Che cosa succederebbe se ci fosse una riduzione dei permessi del lavoro fino al loro azzeramento? Questo potrebbe portare dei problemi anche per la nostra economia, perché ci sarebbe un saldo negativo tra i contributi erogati e le prestazioni ricevute. Vedete quindi come la possibilità di aiutare migranti in particolare, in questo caso stiamo parlando di migranti, ad entrare in un percorso di regolarizzazione e quindi di accesso al lavoro aiuterebbe anche il nostro sistema economico, il sistema economico del nostro paese. Passiamo ad un altro aspetto, questi sono dei flash e poi troverete ovviamente degli approfondimenti nel rapporto, un altro campo di indagine, il genere. Vediamo che il 22% degli utenti dei nostri help center sono donne. Certo, mi sono detto un 22% è un numero alto, tante donne si rivolgono ai nostri centri, come mai? In realtà non sono tante rispetto alla percentuale di donne e uomini presenti nel nostro mondo, il 50% circa degli abitanti della terra sono uomini e il 50% circa sono donne. Solo quindi, solo il 22% si rivolgono ai nostri centri, quindi sono persone senza dimora. Vediamo che queste percentuali poi le ritroviamo anche sempre in Feanza che dice che sebbene il numero di donne senza dimora stia crescendo stiamo sempre attorno al 26%, sebbene, afferma Feanza, molte di loro sono nascoste, quindi in realtà hanno delle problematiche legate alla casa ma non le esprimono. E allora ci siamo domandati perché avviene questo e la risposta ce l'ha data uno dei responsabili, uno degli help center del polo sociale di Roma Termini, Fabrizio Scherid, il quale fa una riflessione molto interessante, afferma che perché le donne sono meno nel numero delle persone senza dimora piuttosto che gli uomini. E lui dice che la donna è dotata di una maggiore resilienza e forza nella difesa della propria dignità, reagisce alla condizione di disagio, raramente si lascia andare, ha maggior contatto con la realtà, non la elude, non la manipola ma la affronta ha rispetto di sé, del proprio colpo, del proprio aspetto, della propria dignità, per questo lotta con maggior costanza e coraggio per uscire dalla condizione di disagio, quindi le donne sono più forti, hanno maggior rispetto, reagiscono. Poi ci sono altri elementi interessanti, come fanno a trovare vitto alloggio? Lo trovano meglio degli uomini perché accedono a dei lavori come quello della badante o quello della domestica che gli permettono di avere un vitto e un alloggio. un altro elemento molto interessante è il forte legame con i propri affetti, in particolare con i figli, costituisce una motivazione in più per reagire, c'è una speranza che alimentano dentro per gli affetti che trovano nel loro cuore, che custodiscono nel loro cuore. Sostanzialmente le donne non lottano solo per sé ma anche per le persone che amano e questo aiuta loro stesse a uscire o a non arrivare in una condizione di disagio estremo come quella dell'homelessness. Andiamo adesso a vedere velocemente la tabella che troverete poi all'interno del rapporto cartaceo o digitale che potrete scaricare dal sito. Queste sono le varie città, ognuna ha una sua peculiarità, quindi anche una modalità. Nei centri sono diverse le attività che vengono svolte e in funzione delle diverse attività troveremo più donne magari da una parte o più uomini dall'altra a seconda dei servizi che vengono erogati. Una puntualizzazione come dicevamo prima, solo alcune di queste città, vedete Bologna, Firenze, Pescara, Roma, Napoli, Bari, Reggio e Messina utilizzano oggi la piattaforma Antology per registrare le loro attività. Perché non la utilizzano tutti? Come vi dicevo perché ognuna può avere dei servizi diversi, magari chi ha una mensa non riesce a registrare i nomi degli utenti, però comunque eroga un servizio, chi magari ha un altro sistema, un altro database come il comune di Milano, ha un altro sistema di registrazione, quindi con coloro che utilizzano la piattaforma abbiamo potuto raccogliere i dati in maniera strutturata e fare anche delle analisi più approfondite. Per gli altri sono state date delle schede di rilevazione che poi sono state ovviamente normalizzate ai dati degli altri. Andiamo a vedere adesso in dettaglio che cosa è successo nel 2016 rispetto al 2015. Allora prendiamo solo alcuni spunti, per esempio sull'età degli utenti e vediamo che c'è un aumento delle persone comprese nella fascia tra i 18 e i 39 anni. C'è anche un grande aumento di minori dovuto a delle attività specifiche fatte dai centri ma anche a un afflusso veramente di minori non accompagnati, in particolare stranieri che si sono poi rivolti o sono arrivati a queste antenne del territorio che rappresentano gli help center e vediamo appunto che c'è un passaggio dal 21-24% tra i 18 e i 39 anni al 27% del 2016. Più in dettaglio ecco lo andiamo a vedere in questo grafico come vedete appunto come sia aumentato il flusso di utenti giovani. Sicuramente questi utenti giovani sono prettamente utenti migranti. Andiamo a vedere un altro aspetto proprio molto velocemente, quello di cui parlavamo prima, i nuovi utenti. Ebbene i nuovi utenti, le persone nuove che si sono rivolte agli help center sono aumentati, quindi passiamo addirittura del 18%. Ovviamente questo dipende anche dal fatto che ci sono più centri del 2015, c'è un centro in più, Trieste, che nel 2015 non c'era, ma in realtà se andiamo a vedere la percentuale relativa all'anno, nel 2015 erano 43% i nuovi utenti rispetto al totale, nel 2016 sono il 48%, quindi al netto, ecco vedete, per esempio di Trieste che ovviamente a tutti i nuovi utenti perché l'anno scorso non li registrava, c'è comunque un saldo positivo delle percentuali, quindi un aumento percentuale dal 43% si passa al 48% rispetto ai utenti totali. Anche qui l'impatto dell'immigrazione ovviamente influisce notevolmente. Bene, per quanto riguarda le richieste ovviamente come vi dicevo essendo i centri, caratterizzati da servizi diversi, sono diverse anche le richieste che vengono effettuate nei vari centri. Le principali, le vedete in questa scheda, ma le potrete andare a vedere nelle schede delle singole città, sono accoglienza, quindi un posto dove stare, una casa, la ricerca del lavoro, l'assistenza sanitaria, l'igiene personale e l'ascolto. Le trovate colorate in questa slide in modo diverso a seconda delle diverse città. In questo rapporto abbiamo voluto poi effettuare una cosa particolare, un'apertura particolare, abbiamo cercato di calare i numeri della rete ONS all'interno del territorio vero e proprio, andando a definire degli indicatori di contesto, che sono la superficie della città dove poi opera l'help center, la popolazione residente, ma anche degli altri indicatori, che sono indicatori del benessere eco e sostenibile nelle città, degli indicatori realizzati dall'Istat assieme al CNEL con il sistema statistico nazionale, che vanno poi a monitorare il reddito disponibile delle famiglie consumatrici pro capite per provincia, queste riferite all'anno 2015, gli ultimi disponibili, il tasso di occupazione, il tasso di mancata partecipazione al lavoro della popolazione, il numero di persone, questi tre. Quindi questi sono indicatori URBES che poi andremo a vedere, che sono molto interessanti. Oltre a questi abbiamo poi considerato un altro indicatore, che è quello di cui parlavamo prima, ossia del numero delle persone senza dimora stimate dall'Istat, quei 50.000 famosi calati in alcune delle città dove l'Istat ha effettuato poi l'indagine e poi abbiamo voluto dare un contributo ulteriore, fare un passo avanti, ossia abbiamo preso alcuni degli indicatori URBES relativi alla sicurezza nella città, ossia il tasso di omicidi, il tasso di furti in abitazione, il tasso di furti con destrezza e il tasso di rapine e abbiamo creato un nuovo indicatore che abbiamo chiamato indicatore rischio sicurezza. Perché? Perché spesso ci si interroga su come l'impatto, che impatto abbia l'help center all'interno della stazione e quanto questo sia collegato alla sicurezza della stazione stessa o della città. Qual è il rapporto tra sicurezza e solidarietà? Ovviamente solo su questo potremmo fare un convegno, ma noi abbiamo voluto in maniera proprio flash dare un'indicazione in questo senso nel nostro rapporto. Abbiamo costruito quindi questi indicatori sicurezza normalizzando e mediando questi indicatori, lo vedete in questa slide, lo vedete in maniera più approfondita nel rapporto e considerando come il rischio sicurezza medio uguale a 1 in Italia e quindi una variazione all'interno delle diverse città. Un risultato proprio generico che abbiamo visto è che in effetti esiste una correlazione tra questo indicatore rischio sicurezza e il numero di utenti degli help center ogni mille abitanti nelle nostre città. Ossia laddove c'è un rischio di sicurezza maggiore c'è un intervento dell'help center che cerca di andare a mitigare questo rischio. Vediamo che su questo prendiamo uno dei contributi presenti sempre nel nostro rapporto, un contributo di Christian Signorile della cooperativa Caps che gestisce l'help center di Bari, nel suo intervento senza dimora e sicurezza, una ricerca molto interessante fatta dalla Caps con l'università di Bari dove anche collabora Christian e lui questo afferma che questa ricerca che in realtà non si osservano delle differenze significative per quanto riguarda la tendenza a commettere reati tra persone senza dimora e popolazione in generale salvo sui reati del patrimonio. Quindi in realtà non sono le persone senza dimora quelle principalmente che commettono reati, però in realtà il vivere in strada, afferma Christian, incrementa il rischio di arresti e incarcerazioni. Non solo in realtà per una propensione ovviamente a delle condotte devianti ma anche perché le persone hanno un minore accesso a misure alternative e quindi sono più esposte all'attenzione delle forze dell'ordine. Questo appunto che cosa ci fa dedurre ma è una deduzione generale è che nelle città dove maggiore è il rischio della sicurezza l'intervento degli help center mitica il problema della criminalità. Cioè gli help center non sono solo delle antenne, non solo favoriscono dei percorsi di rinclusione ma anche miticano la possibilità che in quella stazione ci siano dei problemi di sicurezza per la loro presenza, per la capacità di relazione con gli utenti e per la capacità di costruire una rete anche con le istituzioni, con la polfer, con la polizia che vada poi a aiutare chi veramente ha bisogno ma invece a mettere da parte chi opera azioni criminali che vengono poi ovviamente gestite dalle forze dell'ordine. Ma su questo tema riprendiamo anche di nuovo un contributo del nostro amico anche Tito Boerico il quale anche abbiamo realizzato delle indagini assieme alla fondazione Rodolfo De Benedetti che lui seguiva prima di essere presidente dell'Inps e il quale afferma come presidente dell'Inps che nel sedicesimo rapporto annuale dell'Inps è stato notato come la regolarizzazione riduca la frequenza di reati tema che interessa il mondo delle stazioni. Quindi anche qui persone italiane o immigrate se vengono regolarizzate commettono meno reati e possono essere poi inserite nel mondo del lavoro e contribuire al sostentamento del nostro sistema economico e quindi del sistema di welfare. Ecco quindi questo ruolo nuovo anche che acquisiscono gli help center non è per capirci panini e coperte solamente perché poi in alcuni casi c'è anche quello ma c'è molto di più. Ci sono relazioni, costruzioni di percorsi di inclusione e anche costruzioni di reti territoriali. Ecco questi sono i vari indicatori che troverete dove c'è in rosso l'indicatore sicurezza, troverete all'interno del rapporto ma andiamo a vedere poi come è costruito il rapporto nelle varie città. Ecco il rapporto lo vedrete che è costruito con delle schede delle varie città dove nelle schede sono indicati questi dati di contesto di cui abbiamo parlato. Per ogni città ci sono quindi il genere quindi uomini, donne, italiani e stranieri, un approfondimento sull'età, sulla provenienza e anche sulle richieste che sono quelle che vi facevo vedere prima. Interessante ecco il rapporto di questi, l'analisi di questi indicatori. Per esempio vediamo che nella città di Torino è una presa campione. Su 1729 persone senza dimora stimate dall'Istat l'85% sembra si siano rivolte allo sportello di Torino perché che ne ha contate 1463. Ovviamente non è detto che siano le stesse ma vedete come l'impatto e che come le persone senza dimora sono davvero tante. Ecco la stessa cosa lo facciamo per Firenze, ne abbiamo il 76% delle persone senza dimora stimate nella città si sono rivolte all'help center di Firenze. Cambiano le cose nelle metropoli, per esempio vediamo che a Napoli il 62% delle persone senza dimora stimate. In realtà il tema qual è? È che probabilmente le persone senza dimora presenti nel nostro periodo di Firenze sono molte di più di 50 mila e ce ne dà un esempio l'analisi fatta sulla città di Bologna dove sono addirittura il 182%, ossia sono molte di più di quelle stimate dall'Istat. Questo sta a significare che probabilmente il numero di 50 mila è un numero più basso di quello reale. Vediamo un po' il rapporto sulle varie città. Dove è presente l'indicatore Istat, ovviamente queste non sono tutte quelle di tutti gli help center di Lotso, ma laddove c'è un indicatore Istat sulle persone senza dimora, stimate e vedete quali sono le diverse percentuali. Bene, siamo in chiusura di questa presentazione e all'interno nel testo troverete anche altri contributi. Per esempio c'è un'esperienza molto interessante presentata dall'associazione Sole e Luna di Genova Cornigliano sulla valorizzazione delle eccedenze alimentari dove appunto l'help center ha creato una vera e propria rete di esercizi commerciali dove vengono ritirati appunto il cibo e poi viene messo a disposizione degli utenti con una bellissima cucina che hanno nel loro help center. C'è invece un altro contributo, ci sono dei contributi di storie molto belle del raccontato e oltre quella di On The Road di Pescara anche dell'help center di Firenze e poi c'è anche ovviamente un contributo di Fabrizio Torella che è stato poi tra coloro che hanno supportato maggiormente lo sviluppo in questi anni e lo sviluppo della nostra rete e che anzi ci teniamo a salutare in questa presentazione perché dal mese prossimo andrà in pensione e quindi ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni e che dice effettivamente che molti di questi progetti sembrano oggi un'ovvietà ma ci è voluta costanza, pazienza e una continua tessitura di rapporti e di reti sempre più articolate e complesse. Quindi davvero ringraziamo Fabrizio Torella che ha fatto da tramite con Ferrovie dello Stato per permettere che tutto questo sogno diventasse una realtà. Ma ecco perché non ce la cantiamo e ce la suoniamo solamente tra coloro che hanno ricordato gli help center c'è una figura molto conosciuta che è quella di Papa Francesco che in un incontro fatto proprio con le ferrovie ha citato gli help center appunto nominandoli come antenne che permettono di capire i segnali di ciò che avviene intorno a noi per riuscire a percepire le sofferenze degli altri senza rimanere insensibili. Ecco e viene appunto detto quindi dal Papa, dalla Santa Sede che questi sportelli sono un mezzo con cui le ferrovie vogliono cooperare a tenere unito il paese non solo dal punto di vista geografico ma anche sul piano sociale. Ecco questo è un grande riconoscimento e anche un segnale che ci dice dobbiamo continuare ad andare avanti con il nostro lavoro e cercare di essere sempre più vicini agli ultimi. Chiudiamo con un contributo dell'help center di Reggio Calabria, una storia raccolta da Alessandro Cartisano e che finisce così. Sì, perché le storie che finiscono bene non sono solo nelle favole raccontate ai bambini in questo racconto la principessa si salva da sola attraversando il deserto, combattendo mostri chiamati uomini e alla fine trova il suo castello in un luogo che di magico forse ha ben poco ma che di prezioso ha le anime che lo abitano. A nome di tutta la rete dell'Osservatorio Nazionale sul disagio e la solidarietà io vi ringrazio se avete avuto la pazienza di ascoltare fino a qui vi invito a visitare il nostro sito onds.it dove troverete oltre a questa presentazione ovviamente anche il rapporto in formato digitale scaricabile. Grazie e buon lavoro a tutti.